Buongiorno, buongiorno, un mercato leggermente in ritardo quello di oggi, ma siamo giustificati dalla distanza. Nella Belbo che ci ospita è un posto veramente molto lontano dal centro di produzione, quindi noi che arriviamo un po' da tutto il Piemonte abbiamo trovato lungo e faticoso arrivare fin qui anche perché era una mattinata piena di nebbia. Però devo dirvi che vista l'accoglienza che abbiamo ricevuto siamo veramente felici di essere Agnella, è un paese fantastico, vorrei che vi faceste un applauso, possiamo farlo? È spontaneo, cioè si è mobilitato tutto quanto il paese, questo grazie al sindaco, alla Proloco, al vice sindaco, a tutte le persone che vivono in una realtà che si vede già dalle prime battute essere molto consistente. Guardate qui alle nostre spalle che cosa sta succedendo, intanto ci stanno facendo cuocere le caldarroste, la cosa non guasta perché fa leggermente freschino. Buongiorno maestri, maestri delle caldarroste. Poi qui abbiamo un signore che sta costruendo degli zoccoli così come si facevano una volta, quelli per andare a lavorare la campagna, vero? Sì, 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 è vero. Stiamo preparandoli? Per forza. Ma si usano ancora oppure no? Poco, poco. Poco, poco, è un peccato perché so che tengono caldo al piede. Guardi qui, eh? Eh, che scarponi. La calza di lanno di pecora e il legno nei piedi si va avanti per tutta la salute. Tanta salute. Invece adesso tutti abbiamo i piedi perché la plastica rovina tutto. E dobbiamo chiedere consigli al dottor Schoen. È peccato dei plantari. Peccato che fanno questo mestiere in Nile Langhi, più più nessuno. È veramente un peccato. Approfondiremo il discorso. Qui stiamo costruendo delle ceste. Qui che cosa facciamo? Pezzi per costruire le ceste, no? Questa è una piccola industria, siete in tre, cioè due fanno i filotti. Prepariamo le liste e uno fa le ceste. E uno fa le ceste. Poi dall'altra parte abbiamo un impagliatore, sta facendo una seggiola. Buongiorno. Buongiorno. Anche qui un vecchio mestiere, no? È un mestiere di una volta. Un mestiere di una volta, una bella sedia che sta nascendo sotto i nostri occhi. Quelli che sono stanchi e così si siedono. E buonanotte, siamo a posto. Però bisogna anche far luce quando fa buio, bisogna andare a girare per le campagne, per le vie della città. Oggi c'è l'illuminazione elettrica e le cose quindi sono tutte facili, ma un tempo per potersi illuminare bisognava... Andare con questo. Andare con questo. E stare attenti a non dar fuoco, i pagliai però, eh? Eh, ma il chiaro era riparato dai vetri. Era riparato dai vetri. Queste sono lanterne. Lanterne che si usava alla volta ad andare in giro, a vegliare. È una cosa fantastica. Erano proprio così, anche di forma? Sì, sì, proprio così. Mi dica un po', ma lei continua a farle perché? Le fa per se stesso, le fa per venderle, le fa per mantenere alta la tradizione? Faccio perché non si dimenticano di noi, i giovani. Bello, eh? Perché altrimenti dicono, ma una volta stavano meglio di adesso, invece... Invece bisogna far vedere come si stava una volta, bisogna andare in giro con l'umino, eh? Come erano alimentate queste lampade? Una parte a petrolio, quello, proprio normale. Poi si mettevano su una candela, ma la candela, se portarla così si spegneva, allora si doveva riparare col vetro. Fantastico, fantastico. Anche qui approfondiremo perché parleremo dei mestieri. Se Robertino si toglie di mezzo, facciamo partire l'orchestra. Grazie, Robertino. Pronto, maestro? Allora, mi raccomando, è una cosa speciale, eh? Dobbiamo aprire in maniera speciale, così come in maniera speciale ci ha colto Niella. Siamo pronti? Che facciamo? Una cosa allegra? Un balzer del liscio. Vai, maestro! Un balzer del liscio. Un balzer del liscio. Un balzer del liscio. Un balzer del liscio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pierluigi Bonetto, vice sindaco. Gli altri personaggi ve li presenterò poi nel corso della trasmissione perché abbiamo diviso i loro interventi in più parti. Andiamo a conoscere Niela attraverso le parole del sindaco, intanto ancora grazie, devo dire che ci stupiamo sempre dell'accoglienza che riceviamo, diciamo basta, guarda che accoglienza abbiamo ricevuto, poi altri paesi ce ne offrono un'altra che è altrettanto bella. Vuol dire che alcuni paesi hanno veramente capito qual è lo spirito della trasmissione, quale vuole essere il messaggio che noi lanciamo attraverso il video, cioè vogliamo far rivivere vecchie storie, vogliamo far conoscere personaggi, vogliamo dare un quadro che sia il più completo possibile di una realtà che in questo caso è una realtà di Langa. Voi ci siete riusciti perfettamente sindaco, eh? Grazie. Allora, Niela Belbo, entriamo un attimo nel dettaglio di Niela, quanti abitanti ci sono qui? Comunque, Niela Belbo fa 435 abitanti circa, residenti. Residenti. E come vedi sono su un'altura, su una collina. Siamo proprio in cima a un bricco? Eh, quasi in cima a un bricco, c'è solo il bombarcaro che è un po' più alto ma siamo quasi pare. In effetti, quando mi hanno detto c'è da andare a Niela Belbo, ti dico la verità, abbiamo dovuto prendere tutte le carte geografiche e andare a cercare perché davvero non sapevamo quale fosse la strada e come ci si dovesse arrivare. Sì, in effetti sono paesi un po' dimenticati, comunque ci siamo, eh? No, no, vivi, vivi, veramente vivi. Di che cosa si vive principalmente, le attività primarie? Principalmente una volta si viveva l'agricoltura e poi negli anni 60 l'industria ha invaso un po' tutte le questioni, anche Niela Belbo, visto che l'agricoltura non c'è più di andare avanti, allora ci siamo messi a fare i pendolari, la Ferrero di Alba e l'Amirolio e tuttora. E sono le due grosse aziende che nei nostri paesi possiamo ringraziare, perché se non fosse per quello saremmo quasi più nessuno in questi paesi, saremmo dovuti andare via per poter tirare avanti. Perché la campagna i giovani non la seguono più. Ma non è che non la seguono più, non rende più. Non rende più. Tra l'altro tu mi dicevi, prima di iniziare la trasmissione, che un tempo qua c'erano anche delle vigne, cioè c'era la possibilità magari di accudire a qualche cultura particolare. Invece adesso la cosa un po' è... rimangono le castagne e le nocciole, no? Pronto, appunto. Noi una volta, una volta sia in basso a Valle Bormida di là, che è sempre confine da Niela, o anche qua verso il Belbo, c'erano dei vignezi, c'erano delle culture abbastanza ortaggi, frutta. Poi, dalla parte del Bormida, con l'inquinamento del Bormida, tutti i prodotti, soprattutto, dovuto smettere di coltivarli perché erano inquinati. E qua dal Belbo, evacuando, i giovani non mettendoci più a lavorare la campagna, è andata da Belbo. I problemi del Bormida li abbiamo seguiti, ci sono stati degli anni di grande polemica. Adesso come stanno andando le cose? Voi le risentite un po'. Ma, certo, noi, io personalmente, su tutte le riunioni che fanno, sia a Dasti, sia a Fortemiglia, questa Bormida, sì in regione, ci sono quasi sempre andato, sembra che si arrivi a una svolta, però sono 120 anni che va avanti. Speriamo che il governo Dini, il governo Prodi, penso che non riesca ancora, ma in avvenire speriamo... Sì, anche perché ci sono sempre dei problemi enormi da superare, quindi, con una scusa con l'altra, i problemi locali, che comunque sono enormi per chi vive le zone, non vengono mai toccate, eh, come quello della strada... Allora, come se ne pregano, praticamente, tanto per dirla chiara, diciamo le cose come stanno e poi la notte. Vice sindaco, vice sindaco Pierluigi, vice sindaco giovane, nuovo da tanto che sei in carica. Adesso, è l'ultima legislatura. Ah, quindi relativamente fresco di nomina. Sì. So che ti occupi principalmente, particolarmente, di un progetto che ti sta molto a cuore, cioè voler portare Niela Belbo in Italia. Sì, innanzitutto, grazie a Clivio, perché siete venuti qui e quindi oggi alla mezza si parlerà di Niela Belbo. Ah beh, certo. E' la cosa più importante. Noi abbiamo un progetto comune, Proloco e i commercianti di Niela. Questo progetto, noi modestamente lo chiamiamo portare Niela Belbo in Italia. Infatti, stiamo lavorando alla creazione di un dépliant, un dépliant dove mettiamo tutto quello che abbiamo. E noi abbiamo l'aria buona, abbiamo la natura, abbiamo i sentieri e vogliamo che questi sentieri, questa natura, questa semplicità, portarla in Italia. Escano fuori. Che esca fuori e quindi avere un ritorno, un ritorno di persone. Certamente, questa è anche una zona turistica, diceva il sindaco che molti svizzeri, molti tedeschi, cioè c'è un'invasione da parte di popolazioni non italiane, che sono dei gran furbacchioni, perché con la loro moneta molto forte riescono a venire qui, comprare, però mantenere inalterate le strutture. Cioè loro rimettono a posto le vecchie cascine ma le tengono come erano una volta. Infatti è una cosa fondamentale perché è vero, loro hanno il problema dei soldi. Ma sono più furbi di noi. Saranno anche più furbi, però in definitiva comprando queste cascine effettivamente le ristrutturano e quindi è un bene soprattutto per noi. No, però è un peccato, io dico, ho fatto una battuta volutamente provocatoria perché dico, sarebbe stato bello che queste cose le avessero fatte i nostri, no? Invece noi tendiamo sempre, abbiamo delle meraviglie e non le sappiamo apprezzare, cioè devono arrivare gli altri ad apprezzarle per noi, cioè questo era un po' il senso. Certo, però come ha detto il nostro sindaco effettivamente qui le risorse... E meno male che ci sono. Certo, ma le risorse sono quelle che sono ed effettivamente qui se non ci puntiamo sul turismo... Ma vedrai che il progetto andrà bene perché siede una popolazione viva. Un'ultima cosa, noi questo progetto lo collegheremmo al discorso della mountain bike, infatti vogliamo sfruttare questi sentieri per chi ama la mountain bike, creare delle piste e speriamo di portare tutto in porto. Il sindaco fa la faccia strada perché lui dice io la mia età in mountain bike non ci vado più, quindi lascio che siano loro a portare. Ma si può sempre iniziare anche la società. Si può sempre iniziare. Allora, abbiamo chiacchierato un po', abbiamo conosciuto una parte dell'amministrazione, dell'amministrazione locale. Vi presento ancora il vicepresidente della Proloco Paolo Cuttica, con lui parleremo più tardi. Sturla Miles, di origine chiaramente inglese, è una persona... Perché sono venuti qua a prendere una cascina, voi... o no? No, io vengo da Genova, vengo in villeggiatura e come si... come... così. Si innamorò del posto. E del posto. Non solo del posto, anche del marito. Prima del marito, prima del marito. No, diciamo di tutte e due contemporaneamente. E così sono rimasta qui, è una scelta di vita anche questa. Si occupa di turismo, quindi ricollegheremo poi un attimino il discorso, così come la signora Piercarla Ferreri, che è una collaboratrice. Sì. Ok? Quindi abbiamo fatto le presentazioni, adesso la cosa più importante da presentare rimane il paese. Noi abbiamo fatto una bella scheda, ve lo mostriamo in tutto il suo splendore. Peccato che non possiate respirarne l'aria, perché è veramente un'aria... mmm... frizzantina. Dopo un primo momento di smarrimento, quando siamo arrivati con la nebbia, come ho già detto prima, e col buio, abbiamo respirato a pieni polmoni e ci siamo proprio catapultati in una grande realtà, quella di Niela Belbo. Niela Belbo, anticamente chiamata Nigella ad Belbum, deriva da un'erba che nasce fra le messi, denominata Nigella damascena. Molti storici però pensano anche ad Aniela, essendo stato questo territorio di Armenti. Ancora oggi sono visibili segni della storia medievale di questo paese, grazie ad un borgo molto rivalutato per il fatto che è uno dei pochi rimasti tali e quali, nonostante il passare dei secoli. Il borgo medievale rispecchia fedelmente l'ambiente dell'epoca, con le porte alle estremità della via principale, con vie strette tra case basse, e con la vecchia chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio. Dal lato nord si vede la parte superiore dell'arcata esterna della porta. La porta pedonale bassa, in modo da obbligare a chi entrava a chinarsi da deporre armi e bagagli, immetteva nella via discendente al ghetto. Dell'antico castello rimane solo la torre, che è situata in via 20 Settembre. L'arco medievale fu nominato dei francesi, in ricordo del passaggio della divisione napoleonica nel 1796. Oltre ai succitati monumenti storici, Miela Belbo vanta svariate costruzioni di indubbio interesse storico, quali la cappella di San Sebastiano ed il campanile dei battuti del secolo XIII. La chiesa di San Giorgio, con all'interno pregiati a freschi gotici. Il santuario della Madonna dei Monti, che, oltre ad essere monumento di stile architettonico del 700 piemontese, attribuito a Francesco Gallo, è senza dubbio belvedere paesaggistico. Alla sommità della collina che sovrasta il paese, verso la Valle Bormida, si trovano due cappelle. La prima, dedicata a San Giovanni, la cui leggenda vuole che una strana pietra, posta accanto alla cappella, in modo particolare, nascondesse l'indicazione di un ingente tesoro. La seconda, dedicata a San Bernardino, appartenente ai Bauzano di Torino, che la fecero erigere per ringraziamento. A Niella, le costruzioni si sono sviluppate in modo da mettere in risalto tre epoche. L'epoca più antica nel borgo medievale, l'epoca dei due ultimi secoli nella zona di San Giorgio e l'epoca moderna lungo la strada provinciale. Nella Belbo rientra nell'iniziativa i Sentieri dell'Alta Langa, facendo parte di un itinerario escursionistico denominato Sentiero della Valle Belbo. È possibile usufruire di attrezzati impianti sportivi, composti di campo polivalente da tennis e calcetto, campi da bocce, area giochi per bambini e di una sala polivalente attrezzata per manifestazioni, convegni e raduni. a Giorgio a Giorgio Pagli nostri vei faccii, e anche russi come grini un rinco Pagli stuma la simpatia, c'è la quanta la compagnia E' un anulino a mea in piadure castagne Castagne in quantità, oh che gioia le veronica Castagne in quantità, oh che gioia le veronica Castagne in quantità Castagne in quantità, oh che gioia le veronica 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 Bravissimi, bravissimi, grande cantoria, la cantoria di Niela Belbo, guardate che belle persone. Tra l'altro mi hanno detto che siete molto apprezzati e ci sono delle persone che vengono apposta a sentirvi soprattutto in prossimità del Natale, vero? Insomma. Dei canti natalizi. Abbastanza, sì, chiedo. Oh, beh, non sia modesta perché dice, no, ma insomma, ma qualcuno viene... Ma qualcuno è piccola, non è che... Quindi i dissenzienti li cacciamo? Certo. Eh, dice, quelli che non apprezzano la cantoria, tutti a casa. Poi noi siamo gente che piace molto cantare, piace l'allegria, anche se a volte non possiamo essere in allegria, ma la facciamo ugualmente. Come nasce la cantoria? Lo chiedo a lui, perché so che è un po' anche il portavoce, un ottimo solista, tra l'altro mi hanno detto, eh? Ma a me piace cantare e appunto mi piace trovarmi in questa compagnia. Tutti ragazzi vedo, tutti ragazzi. Sì, tutti giovanissimi. Tutti giovanissimi. Sì, comunque io mi sono messo qua a cantare in questa cantoria da poco, ma praticamente è sempre esistita. Ti ci trovi, eh? Mio padre, praticamente sono quasi tutti parenti. Quindi si passa il bastone, no, diciamo? Diciamo di sì. La padre? Anche perché siamo i pochi se non facciamo, non ci diamo da fare. Bello, grandioso. Un altro, intanto, diciamo, la canzone che abbiamo ascoltato come si intitolava? E la canzone è tipica di Gnella Belbo, la castagna. La castagna, che è il prodotto, come abbiamo detto prima col sindaco, proprio caratteristico locale. C'è un'altra persona che io vorrei qui un attimino con me. Venga, 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 non si nasconda là dietro. Venga qui, venga qui. Per far vedere come a queste iniziative del paese partecipano veramente tutti, io ci tengo a sottolineare la sua presenza. Questa signora si occupa dell'asilo, è vero? Materna. Buona materna. Sono circa 30 anni che sono qua. E' il motivo principale che mi sono fermata perché sono gente allegra e si sta bene qui a Gnella Belbo. Se signora è una sorella, è vero, si può dire, è vero? Suora Luigina di Alba. Suora Luigina di Alba. Noi adesso vediamo le immagini dell'asilo. Siamo venuti anche perché è bello far vedere la scuola materna, è bello far vedere tutte le realtà di un posto che si va a visitare. Quindi quando il nostro operatore è venuto ha voluto anche mostrare qualche immagine di questa bella realtà perché lì si allevano gli spiriti giovani, i futuri cantori, i futuri mestieranti, i futuri lavoranti di una bella realtà locale. Ancora direi una cosa, da quando sono qua a Gnella sono passati circa 750 ragazzi da noi e la gioia più grande è per noi quando li vediamo forti, robusti, bravi, sireni. So che fate anche un bello spettacolo con i ragazzi a Natale, vero? Poi alla fine dell'anno facciamo il festival della canzone, qui partecipano tutti i ragazzi cioè preparati dei loro genitori, non è che vogliamo fare tutto noi, ogni famiglia pensa al suo bimbo e le prepara un bel canto secondo la loro portata e così rimane la chiusura della scuola. Un paese canterino, bravi, complimenti, complimenti alla cantoria, adesso noi dobbiamo subito fare un collegamento stavolta un collegamento abbastanza distante, almeno a livello chilometrico. No, fa la passata, buongiorno, benvenuta al mercato. Cos'è venuta a fare, la spesa? Eh, poi pregare un po', ci ha messa le 10. Ho capito, allora andiamo anche a seguire la messa, brava, brava. Dunque dicevo, è un collegamento un po' distante, almeno a livello chilometrico, ci colleghiamo con l'asta del mobile a Cavallermaggiore, però diciamo elettronicamente queste cose si fanno con una certa disinvoltura. L'importante è portare nelle vostre case questo messaggio commerciale che è un messaggio, devo dire, estremamente conveniente per chi si vuole avvicinare ad una soluzione ambientale particolare. Per soluzione ambientale particolare indubbiamente intendiamo non il cambiare completamente il mobilio della casa, ma magari a scaglione, un pezzo per volta, se volete un pezzo particolare o se volete cambiare l'arredamento di una camera, non so, della camera da letto anziché della cucina o del salotto o dell'entrata, andate all'asta del mobile. I prezzi sono veramente minimi, la scelta è enorme, soprattutto si trovano dei pezzi fatti con il vero legno, lavorati molto bene artigianalmente, e sono pezzi che possono impreziosire l'ambiente nel quale li metterete. Adesso Ivan ci mostrerà una qualche soluzione, sentiamola perché, beh, perché se abbiamo bisogno di cambiare mobili, l'asta del mobile è certamente un punto di riferimento. Vai Ivan! Abbiamo rivisto il nostro salotto, quello che portiamo in giro per le piazze e per i mercati. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutte, passano delle belle signore, intenta ad andare a fare la spesa, a seguire anche la trasmissione, c'è un filotto laggiù eccezionale, salutiamo con la mano, ma adesso presentiamo la redazione di oggi. Qui alla mia sinistra, Rosalba, buongiorno Rosalba. Buongiorno a lei. Cosa fa di bello nella vita? Parrucchiera. Parrucchiera. Oggi è giorno di riposo oppure ha lasciato il negozio a qualcuno? In occasione del mercato, siamo tutti qua. Tutti qua, che bello, grazie. Alla mia destra, Beppe, detto Vincenzo, non ho capito bene, Cioè, qual è il nome? Beppe, Vincenzo, Beppe, qual è la situazione? Va bene, va bene. No, perché qualcuno ti ha presentato come Vincenzo, poi hai detto, ma qui non mi conoscono come Vincenzo, mi conoscono come Beppe. Perché io sono nato a Niela, ma ho sempre vissuto a Torino. A Torino, sottomentite spoglie però, vivevi là come Vincenzo. Un'autofara troniera. La viveva come Vincenzo, lei è tornata a Biela e dice, mi chiamo Beppe. No, continuiamo lì il discorso. Alle nostre spalle, alle vostre spalle, Gabriella, buongiorno. Buongiorno. E per la borsa di oggi. Buongiorno. Allora, siamo pronti, dovrai andare a seguire un attimino sulle bancarelle. Che cosa fai di bello nella vita? Io sono a casa, faccio la casalinga, guardo la mia bambina. Perfetto. Ma sono maestra. Quanti anni ha la bambina? La bimba ha un anno. Un anno, come si chiama? Giulia è bellissima. Giulia è bellissima, mandale un bacetto, dai. Ma Giulia. Eccolo lì, così quando la vede dice, guarda la mamma e si mette a sorridere. Dunque, i prezzi da recuperare oggi sono quelli dei cachi, dell'insalata valeriana, dei pomodori e delle costine. Prezzi minimi e prezzi massimi. Ok? Così, alla fine, daremo la borsa della spesa di oggi. Invece, andiamo alla lettura della stampa. Prima pagina del quotidiano. Parti pure. Rosalba, che si dice? Allora, noi ci siamo interessati più che tutto, visto che è un paese abbastanza religioso questo. Ha questa nuova teoria che comunque il Papa sembra comunque ascoltare e interessato. È quella appunto dell'evoluzione dell'uomo e della sua specie. La fede ammette le teorie dell'evoluzione. Dell'evoluzione, infatti. Che sembra una cosa semplice detta così, però è la prima volta che la Chiesa si pronuncia ufficialmente, no? Infatti, si era pronunciata qualche volta, insomma, anni fa con Papa Pio. E adesso Voitila sembra che sia interessato, prenda una posizione. Su questo noi giocheremo l'indagine di oggi, mandando Vilmer Zuliani tra le bancarelle proprio a porre questa domanda. Secondo voi, l'uomo nasce dalla scimmia, secondo la teoria di Darwin, oppure l'ha creato direttamente nostro signore, come dice la Bibbia? Ecco, questa è la domanda che abbiamo fatto e che andremo a fare tra le bancarelle. Le risposte le ascolteremo più tardi. Le altre notizie, Beppe, che si dice? Beh, leggiamo, proprio giusto una lettura, tanto per dare idea di che cosa accade nel... No, no, qui, no, no, sulla prima pagina, la lettura di prima pagina. Fazio? Lo fa Fazio, taglio il costo del denaro, lo accordo per il resto, esclusi e aggravesi sui centri mesi bassi. Esclusi e aggravesi sui centri mesi bassi. Eh, sì. Ci credi? Sì, io sì, io ci credo. Cioè, siamo ottimisti? Sì, sì. Dobbiamo essere ottimisti. Vediamo che succede. Io per quello sì. Senz'altro. Rai, fatti i direttori. Scontro sulla lottizzazione. Sta succedendo un macello. Eh, quindi c'è un po' un disastro. Perché sembrava, c'è appena fatto il nuovo CDA e beh, già subito sono venute fuori delle beghe mica da ridere. Arbore che si è dimesso. Sì, sì, sì. Se ne è andato via Santoro, eh. E quello è anche un problema per Santoro, eh. Ti dispiace? Beh, vabbè, sinceramente mi dispiace. Vabbè, però va su un altro canale, non è che lo perdiamo proprio di tutto. Sì, per quello sì. Cioè, si vedrà da altre parti. Nell'interno saranno approfonditi Chirac, un trionfo a casa. Dalla Spezia, Pacini parla ancora. Soldi per l'elezione della Mussolini. Ma, ma. Quello è un altro discorso da darvi vedere. Il boss Busca, Brusca, no? Il boss Brusca si fingeva pentito. Che dici? Tradito da un fratello e voleva vendicarsi. Senz'altro ho provato a salvare la... Comunque... Svelato, leggi più ad agio. Tutti gli emozioni. Ti lasci prendere dall'emozione, non si capisce niente. Allora, svelato il piano per salvare Rina Junior. Ritorniamo un attimino a Rosalba. Casalinghe, denunciate l'idraulico. L'hai letta questa cosa, questo titolo? Ma è una cosa che se ne parla ormai da tanti anni, questi idraulici famosi... Che non fanno la ricevuta. Non fanno la ricevuta e appunto, finalmente si parla di fare questo appello... Ma tu che faresti? Lo denunceresti un idraulico che viene a casa tua a riparare un tubo e poi non ti fa la ricevuta? Diciamo che sono purtroppo ormai talmente pochi e comunque preziosi... E' difficile trovarle, se andiamo a fare la denuncia proprio perdiamo anche quei pochi che rimangono. Suicida a 17 anni. Questa è una notizia che deve far riflettere un pochino e lascia sconvolti. Sono grasso. Depresso per l'inutile ricorso a medicina e lassativi, aveva già cercato di uccidersi. Si è buttato dalla finestra dall'ottavo piano, è successo a Milano. E questo purtroppo è dovuto all'immagine che ci danno di tutte queste persone bellissime, perfette... E allora sembra quasi che essere grassi è una cosa da evitare, è quasi una malattia... Non dico contagiosa, ma una malattia più grave. Quindi ci si crea dei complessi, no? Sì, infatti, purtroppo i giovani ne sono molti colpiti da questa cosa. Beppe, che dici tu? Una notizia così, come la commenti? Sì, guardi, per me è una cosa dolorosa, perché non so neanche io come spiegarmi, eh. È una cosa triste, eh. È abbastanza... Poi 17 anni, insomma, una vita davanti. Però bisogna vedere sempre da dove arriva tutte queste... Beh, indubbiamente io sposo però la teoria di Rosalba, eh, che dice la televisione, il cinema, l'immagine che abbiamo del mondo, un'immagine abbastanza deformata. Se non sei bello, alto, ricco, se non sei bella, prosperosa, procace, insomma, c'è i rischi belli. È anche quello, eh, sì, è senz'altro. In effetti nella vita ci sono anche... Senz'altro, allora, come da lì. No? È senz'altro. Se fossero tutti Demi Moore, il mondo sarebbe in alto. Sarebbe bello? Ma sì, ma che fai? Ma quale sarebbe bello? Ma vergogna, ti stiamo spendendo la parola a favore degli altri, se tu mi vieni a dire Demi Moore sarebbe bello, ma per corte sia. Chiudiamo qua, va, è meglio. Grazie, eh, poi commentiamo le interviste, approfondiamo l'articolo, che mi pare, ecco, è a pagina 15. Eh, quindi andiamo a prendere pagina 15, leggetelo, così poi riusciamo a spiegare meglio che cosa accade. Pronta la nostra cantoria? Siamo pronti per un secondo, ma vogliamo mandare l'orchestra? Va bene, allora mandiamo l'orchestra, la cantoria la sentiremo tra poco. Maestro, ti hanno lasciato solo in mezzo alle scope? Eh, vabbè, fate una suonata. Vai, Michelino! Siamo pronti per un secondo, ma vogliamo mandare l'orchestra. Siamo pronti per un secondo, ma vogliamo mandare l'orchestra. Siamo pronti per un secondo, ma vogliamo mandare l'orchestra. Bravissimo, Michelino, bravo, anche da solo sei andato bene. Io ritorno qui ai vecchi mestieri perché volevo approfondire un attimino il discorso con loro. se per cortesia mi chiami il signore delle scope me lo fai venire un attimo qua avanti così lo presentiamo bene allora cosa stiamo facendo esattamente in questo momento? abbiamo già detto che sono lanterne guardate si è anche accesa questa è a petrolio abbiamo presentato prima questo signore che si chiama? Battaglia Battista Battista allora cosa stai facendo Battista con? facciamo un po' di questi no no ma in questo momento tu qua hai un pezzettino di rame che cos'è? dobbiamo piegarli per riparare il vetro per mettere assieme il vetro sono le bordature quelle le bordature si allora si poi cosa fai lo saldi? si si salda e poi si mettono queste perché non si rompe il vetro perché magari uno sbatte da qualche parte e si rompe il vetro allora certo entra l'aria e il lumicino si spegne attenzione perché queste sono fatte una a una manualmente guardate qua è il recupero di un vasetto che normalmente può contenere che so cipollini o funghetti o cose sott'olio e che viene recuperato dall'abilità dei nostri nonni che non buttavano via niente e diventa una lanterna vero? ad olio ad olio ad olio ma non fa tanto chiaro ma una volta serviva eh per baco non si buttava via niente eh appunto perché bastava un piccolo lumicino andare in giro altrimenti si andava a sbattere da qualche parte perché era proprio buio una volta eh non è come adesso che sono tutte le lampadine il neo che fa l'unghia le cose moderne Gian Battista eh grazie la sedia sta andando bene si stiamo siamo quasi alla fine siamo quasi alla fine quanto ci vuole per costruire una sedia così? ci vuole 5-6 ore 5-6 ore sapendola fare però eh se ci metto io ci metto tre anni e viene fuori una porcheria bene andiamo avanti con la sedia eccolo qua il signore delle scope che si chiama? si angelo angelo allora scope da quanto tempo fai le scope angelo? oh penso 20 anni 20 anni 20 30 anni 40 20 30 40 50 anni uno non sale anche bene guardate intanto stanno passando le signorine sono vestite con costumi tipici di niella stanno offrendo il salame campagnolo agli amici che lavorano ma anche le caldarroste che sono state anche già belle sbucciate mi pare oh eee che lusso hanno tolto il lavoro più difficile metterci le unghie aprirle eccolo qua andiamo a mangiarne una come nascono queste scope? betulla betulla cioè si prende la betulla e che si fa? taglia le rame si taglia e si punta e poi si mette il manico si fa le scope per tenerle insieme qua sono che cosa ha usato? filo di ferro? filo di ferro filo di ferro si lega e si 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 tira e queste scope qua vanno bene per scopare che cosa? col cortile cortile cioè sono scope da cortile stalle stalle e tutto questa è la famosa scopa della strega della strega della strega se sente sua moglie vedete dai qua andiamo avanti tutto bene allora qui abbiamo per molare come si chiama questo attrezzo? coltello coltello di due manici coltello di due manici bisogna bagnarle bisogna bagnarla questa parte bagno perché se no vengono sciute non si possono lavorare difficile lavorare sono morbide hai visto? morbide certo possono flettere tranquillamente e come viene fuori però la striscia? cioè si prende un pezzo unico così si fa bollire nell'acqua poi si spacca si fanno tutte strisci così e poi si sottilano col coltello questo attrezzo come si chiama? è una banca una banca una banca una banca questa sta bene c'è una banca la banca nel senso della panca guardate il meccanismo per poter mettere e fermare il pezzo che tiene poi si mette la strisciolina poi col piede si va a chiusere e si tiene chiuso perché se si apre mollando la strisciolina va giù è bello 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 complimenti lo stesso lavoro che sta facendo lui però sta utilizzando un altro strumento un coltello a palcetto no? anche questo è l'ultimo per fare l'orlo fare l'ultimo giro ah la bordatura praticamente gli spacchiamo il triangolare poi si lisciano col coltello si levano deve restare triangolare? triangolare per fare l'ultimo l'ultimo giro l'ultimo giro della cesta adesso andiamo a vedere anche la cesta con gli zoccoli andiamo benissimo mi pare questo è un piede un po' storto però no che ne so le dico io la prima cosa mi viene in testa che me se fosse dritto come va a portarlo? ah beh certo se fosse dritto quello che fa cammina così sembra Frankenstein voi no? invece così andiamo bene questo che numero è? è un piedino decenerentola questo è un zoccolo tanto questo è uno che ha due piedi così e cosa vuole? è un po' fatica però qui abbiamo anche quelli piccolini questi sono per i bambini i bambini piccoli no perché qui sono soprammobili perché sono usati così non ce n'è solo che fare questo c'è una pazienza enorme invece i ferri ecco vediamo un attimo ho visto che ci sono per esempio questo che cos'è? questa cosa qua perché ecco grazie ci fa vedere un attimino anche questa qui è per fare così dentro no? ecco aspetta vediamo un po' che succede cambia lo strumento ah eccolo lì cioè si cambiano gli attrezzi a seconda di quello che si deve fare c'è un gancio al quale vengono agganciati i vari attrezzi i vari utensili che poi vengono usati per le differenti lavorazioni specialità queste qua di mio papà buonanima pensa un po' che sa vuole ecco viene infilato qua qui ci sono due fori nel banchetto viene infilato qui poi si prega la riga la riga certo la famosa riga in mezzo c'è che si fa la riga qui non si può fare più c'è una signora vorrei sapere come c'è una signora a fare la riga eh vabbè noi ci siamo capiti ci siamo capiti si aggancia allo strumento là guarda un po' che succede si prende si chiama la zina la zina sì qui stiamo facendo una trasmissione audace la zina la riga non so dove andiamo a finire andando avanti così vabbè la prima volta si fa così poi si rifila si fa così si fa il tag vediamo lo strumento vediamo l'attrezzo perché è interessante allora mettili così eccolo lì ecco lo strumento proprio si scava è uno strumento che scava che solca che solca il legno e fa proprio già la reinura no? eccolo lì eccolo lì guarda che meraviglia cioè tutti gli attrezzi che vediamo qui alle spalle vengono utilizzati su questo banco che è un banco di lavoro vero e proprio creato creato dai nostri vecchi e che quindi sapevano come andare a mettere le cose perché gli strumenti vedete che hanno tutti quanti in cima hanno un gancio no? e il gancio serve guardate eccola qua il gancio serve per attaccarli lì cioè il punto di sostegno poi usando un sistema di leva usando a mano si fanno le varie lavorazioni sarebbe bello approfondire ulteriormente attenzione a non tagliarsi è che l'ho lasciato lì dietro grazie maestro le caldarroste vanno avanti ancora un momentino dal cestaio perché abbiamo visto prima le striscioline che sono state tagliate e qui adesso vediamo come vengono come vengono messe può fare il giro da questa parte così facciamo vedere c'è la misura c'è la misura inchiodata in questa panca e poi facciamo il bordo la rifinitura del cestino poi si piegano si piegano e che succede? aspetta che cambiamo il microfono perché lei parla molto piano si? piegano un minuto ne provo a farne uno eh proviamo a piegarne uno vediamo un attimo la piegatura che è una cosa fondamentale per la riuscita del cestino se no viene un cestino rigido e non succede niente le rifiniture anche qui con il falcetto col coltello a falcetto e poi eccolo qua guardate la piegatura anche qui ci va una bravura nel nel lavorare manualmente queste cose cosa si fa lì? si apre la fessura no? per poi infilare si apre per infilare giù eccolo lì si infila per fermare le liste certo si infila lì sotto non c'è colla non c'è niente 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 è tutto un sistema di incastri è vero? rimane finito così voilà ecco si toglie e questo è bello fatto bravo complimenti merita un applauso anche questo signore lo meritano tutti quanti loro che hanno fatto e che stanno facendo questi bellissimi lavori noi adesso facciamo un piccolo giro di vite e andiamo fra voi perché è giusto che visto che tutto il paese sta vivendo questa giornata in nostra compagnia è giusto far conoscere anche gli abitanti del paese soprattutto fare dei salutini a casa perché è arrivato il momento delle dediche bene allora andiamo un pochino a vedere buongiorno buongiorno benvenuti al mercato qua rincontriamo vecchi amici e incrociamo sovente nei mercati buongiorno signora allora un salutino a casa a chi lo facciamo? no il mio fratello fratello lei come si chiama? Carretto Carretto e di nome? frate Vincenzo Vincenzo il fratello come si chiama? Pietro Pietro benissimo Pietro adesso una canzone per lei qui abbiamo il signor? Aliano Alfredo Alfredo a chi lo facciamo un salutino? faccio il mio cugnato a Monbarcaro a Monbarcaro bene noi si facciamo lanciamo da una collina all'altra eh i saluti grazie eh ah v'ho preso v'ho preso in flagrante stavate facendovi discorsini fra voi eh che si diceva di bello eh nell'orecchio che non sente nessuno da andare a fare le spese dice basta perdere tempo qui con questi charlatan andiamo a fare le spese grazie signora lei è molto gentile grazie come si chiama di nome? Pina Pina a chi facciamo un salutino? a tutti mia figlia a tutti i miei parenti a tutti i parenti e lei a chi vuole fare un salutino? a mia nipote come si chiama? Barbara quanti anni ha Barbara? 25 eh una nipotina piccolina eh eh quella già perfetto salutiamo la nipotina ancora un salutino sì a tutti i piemontesi in genere molto bene a tutti i piemontesi in genere qua si sta facendo capannello allora una raffica veloce veloce un saluto ciao Mariuccia benissimo un saluto eh va bene lo schiaffo ma no non si può fare quello era un saluto saluta a me va bene grazie l'accetto volentieri saluta mia sorella a Torino che oggi ci guarda che l'ho telefonato stamattina molto bene come si chiama la sorella? Vincenzina Vincenzina e con questo saluto chiudiamo andiamo col video musicale io ritorno al salotto vai con la musica Sieno e mare blu sole su di noi che fantastica restante tempo che non c'è ma ci può così su di noi è questo amore sulla sabbia tu ti butti su di me e ti lasci accarezzare dolce su di te dolce su di me che hai portato tu da amare sì tutto questo c'è sai quanto in me poco tempo sai quando siamo là nella realtà del sogno tutto ciò verrà questo lo so già come quando penso a noi scendo e mare blu sole su di noi che fantastica è stata tempo che non c'è magico così su di noi è questo amore sulla sabbia tu ti butti su di me e ti lasci accarezzare dolce su di te dolce su di me che hai portato tu da amare sì tutto questo c'è sai quando in me te lo vengi poco tempo sai quando siamo là nella realtà non so niente tutto ciò verrà questo lo so già come quando penso a noi lai la 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 lai la 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 lai la 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 Sì, tutto questo c'è Sai, quando in mente è a te Poco tempo sai, quando siamo là Nella realtà è un sogno Tutto ciò verrà, questo lo so già Come quando penso a noi Tutto ciò verrà, questo lo so già Come quando penso a noi Benissimo, abbiamo sentito la musica Adesso altra musica per le nostre orecchie O meglio per i nostri palati Entra qui il salave campagnolo Ma anche le castagne È un bel abbinamento fra due prodotti tipici Il salame che è un tipico nostrano Fatto a piobesi torinese Con ingredienti Altamente genuini Tutti di bestie nostrane Selezionate accuratamente E poi la castagna che è un prodotto tipico locale Io adesso, guardi, ne prendo due Le metto qua Costumi tradizionali di Nella, vero? Tradizionali proprio di Nella, vero A che epoca risalgono? Beh, io all'epoca non gliela so dire Però so che sono veramente locali Ecco, li ha solo Nella questi costumi Li ha solo Nella? Sono dei piccolori Sono poi, sono bellissimi Cioè, dando subito allegria Diciamo che rispecchiano Infatti, anche i costumi Rispecchiano lo spirito del paese E di tutto quello che è Nella Belbo Sicuramente Dunque Allora, assaggiato com'è buono, sì? Molto buono Sono veramente fiero di potervi dire Che sono usciti recentemente I dati di Data Bank Qualcuno dirà Sono i dati legati alla televisione? No Sono i dati legati ad altri salami Anche noi lo siamo Ma questi sono altri Altro genere Proprio Data Bank Ha compilato una classifica Ha stilato una classifica Intitolata Competitors Che parla di salumi E di prosciutti Ebbene, io non voglio leggervela Questa classifica Perché mi è stata data Brevi Manu Sottobanco Che dice No, non darla ancora Non dire niente Finché non sentiamo Che non sappiamo Aspetto notizie Aspetto soprattutto che Salumificio Campagnolo Liberi Apre le stalle Cioè, per darmi la possibilità Proprio di leggervela Perché è una classifica Che ci dà la produzione La vendita Negli anni 93, 94 e 95 Di salumi E prosciutti In tutta Italia Vi devo dire che Il salumificio Campagnolo È veramente eccezionale Quante volte abbiamo detto Prodotti di tutta Italia Venduti in tutta Italia Venduti all'estero Venduti in Europa Nel mondo Ebbene, questi dati Sono davvero confortanti Così come confortante La crescita Che c'è stata Tra il 1993 E il 1995 In un settore Che si è mantenuto Praticamente costante A livello di produzione Il salumificio Campagnolo È riuscito a crescere In maniera Veramente unica Questo è un segno Di grande qualità Di grande cura Nella preparazione Che stiamo vedendo adesso Ecco le ceste Ecco le belle confezioni natalizi È bene già cominciare a parlarne Anche perché Il Natale si avvicina Molto rapidamente Quindi se avete intenzione Di fare un regalo particolare Le confezioni Campagnolo Si prestano veramente molto E faranno sì che voi siate ricordati Anche perché Essendo i prodotti buonissimi Quando uno li assaggia Li stuzzica Li pilucca Li mangia E indubbiamente Pensa a chi gliel'ha regalati E dice Meno male Guarda qualcuno ha pensato Oltre a regalare cose utili Anche a regalare questa utilità Che è l'utilità Della grande gastronomia Della grande salumeria Del salumificio Campagnolo Allora in attesa di potervi Leggere questi dati Di potervi confermare Le posizioni Che Campagnolo ha acquisito Sul mercato nazionale Gustiamoci insieme Il filmato Mentre continuiamo qui Bevendo del buon vino di Langa Eccolo qua Il dolcetto d'alba Della Valle Belbu Quindi bevendo del buon vino di Langa Continuiamo ad assaggiare Ce n'è ancora di salame? Sì Ecco Quello no Una fettina proprio giusto Visto che prima parlavo Non potevo Non potevo accedere Adesso abbiamo libero accesso Alla fettina Di salame Campagnolo Mentre ci gustiamo Oltre alla fetta Lo spot Benissimo Siamo rientrati Allora Sturla Miles Piercarla Ferreri Si occupano di turismo Quindi riprendiamo Il filone turismo E diciamo Un attimino Di teatro anche Anche di teatro Di attività quindi Avete una compagnia teatrale Avete una compagnia teatrale Qui a Niella Sì sì è locale Quante cose fate? Quattrocento Quattrocento Sembrate solitari Spersi in mezzo alle montagne E si fanno un sacco di cose Possibile Diciamo che questo è quello Che credono gli altri Però noi di Niella Vogliamo che ci conoscano Ebbè è bello Per cui con la nostra compagnia teatrale Abbiamo così girato Parecchi paesi Portando il nostro contributo Così diciamo Simpatico Se vogliamo Perché Oddio Non siamo dei Teatranti Professionisti No Però insomma Ci siamo fatti conoscere Questo per portare Niella Fuori dai propri confini Quello che stanno facendo Con il Depliant Che cercano di fare Con questo Depliant Non è giusto che Si rimanga sempre qui Dobbiamo farci conoscere Che cosa si fa Teatro dialettale Teatro italiano Beh prevalentemente Noi abbiamo incominciato Con il teatro in italiano Però poi abbiamo fatto Delle parti Così delle piccole Commediole O dei pezzi Diciamo anche in vernacolo Anche in piemontese Visto che è tanto richiesto Grande soddisfazione Soddisfazioni parecchie Sì Adesso ci siamo un po' interrotti Ma poi Vedremo Riprendiamo Sì Soddisfazione Ma anche molta fatica Molta fatica Perché insomma Mettere insieme queste cose Costa molto tempo Molta fatica Naturalmente Beh certo È tempo che dobbiamo togliere Poi alle altre cose Alla famiglia Alla lavoro Agli altri obbis E quindi insomma Si va avanti con molta difficoltà Anche perché Ognuno ha i suoi turni di lavoro Per cui è difficile Mettere insieme È una dozzina, 15 persone A provare A fare le cose Però una cosa Piercarla Dobbiamo dire Sottolineare Che stiamo scoprendo Il sistema per tenere legata Una popolazione Perché abbiamo visto La cantoria Le iniziative Il gruppo di teatro Certo Mi sembra che ci siano molte cose No? Sì Ce ne sono per tutti i gusti E per tutte le età Sì è vero Noi dobbiamo puntare Su queste cose Perché i nostri paesi Dell'Alta Langa Specialmente Sono un pochettino Scartati Diciamo Dal punto di vista turistico Non hanno ancora raggiunto Diciamo La notorietà Che invece Meriterebbero Perché Rispetto per esempio Ai paesi della bassa langa Che hanno delle culture Pregiate Come quelle del vino E che quindi Vengono pubblicizzati Noi invece Non avendo queste cose Commerciali Diciamo Che ci portano Dovete fare di necessità Sì è lontanissimo Poi ci giriamo intorno Un attimino E vediamo che siamo già A dicembre No? Per dicembre si fa Vicino È solo Grazie No no è acceso Poi c'è la festa Seppia vivente Per Natale E i grandi canti natalizi Canti natalizi Siccome che Siamo in pochi Nella Proloco Interveniamo Su tutto il paese Che ci aiutano Ci danno una mano E beh però il paese Vedo che partecipa Molto attualmente Quindi le cose vanno bene Eh sindaco Aspetta che noi Noi vogliamo Tutti i venerdì Che fate il venerdì? Si balla Ah si balla Cioè organizzate la festa Il ballo Il ballo Tutti i venerdì sera La gente Partecipa Molto volentieri Qui è un popolo Di canterini Di ballerini Di attori Abbiamo scoperto Una vena artistica Incredibile Che non ha fine Insomma Bene 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 Molto bello Anche quello che ci ha raccontato Sindaco Cosa possiamo aggiungere A quello che ha detto Il vicepresidente Possiamo aggiungere Che noi siamo contenti Che c'è una Proloco Che è efficiente E che Ma c'è anche una bella commissione Tra Proloco e Comune Sì sì Siamo molto Siamo molto Molto legati Uno cerca di aiutare l'altro Per cercare di fare qualcosa Per questo paese Bene Per renderlo sempre più 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 valore 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 Ecco perfetto Sturla e Piercarla Adesso noi ci prepariamo Ad una camminata Andremo a conoscere I prodotti locali Prima però Dobbiamo fare un momentino Ancora di musica La cantoria è a posto Quindi adesso la sentiamo In un secondo motivo Andiamo con la cantoria Io sono un contadino Con una braccia o il vino Per cantare Lavoro pian pianino Mi fermo ogni volta che mi fa Se è un giorno della vigna Se la tante ragazze è così Ogni giorno Ogni sera Che io mangia E io beva Voglio prantare Ci sono tante ragazze Che girano sulle piazze A guardare Si vescono da festa E parlano solamente a chi li fa Sono tutte laureate Oppure impiegate An' tutta la sua scusa Per andare In cerca di un marito Che sia sempre pulito Che sappia Lavar piatti e scopar Se la tante ragazze è così Ogni giorno Ogni sera Che io mangia E io beva Voglio cantare Se la tante ragazze è così Ogni giorno Ogni sera Che io mangia E io beva Voglio cantare Voglio cantare Bene la cantoria spontanea Di Niela Belvo E adesso secondo collegamento Prima di andare Ad un banco Ad un tavolo particolare Pieno di prodotti tipici locali Se la langa è così Ci ha già portato in questa atmosfera Ci ha già portato in questo clima Abbiamo visto anche animali Che passeggiavano liberi Nei prati Perché parleremo di prodotti locali Parleremo di prodotti tipici Vi faremo anche vedere Come nascono i formaggi In questa zona Però Dobbiamo spostarci di luogo E dobbiamo farvi vedere Anche come nascono I bei mobili All'asta del mobile Di Cavalermaggiore In strada statale numero 20 E lo facciamo come sempre Con il collegamento elettronico Con Ivan Quindi siamo pronti Per sentire la seconda Proposta di oggi Ricordandovi sempre Che i prezzi Sono veramente minimi Sono veramente bassi Che il materiale scelto È di grande qualità E che quindi C'è una convenienza Enorme nell'andare A visitare L'asta del mobile Cioè poi non è obbligatorio Comprare Uno va lì Guarda Si sincera Che quello che diciamo Sia vero E poi se Quello che diciamo Risponde alla realtà Come siamo convinti Come sappiamo essere Può acquistare Comunque fate pure un paragone Andate pure a visitare Anche altri mobilifici Quindi c'è un metro Di comparazione E si può essere certi Di fare un buon acquisto All'asta del mobile Vi ricordo anche Ne approfitto Una piccolissima parentesi Che l'asta del mobile Per il momento Non è ancora aperto La domenica Abbiamo avuto Ci sono stati degli intoppi Burocratici Come avrete sicuramente capito Ne avevamo già parlato Un mese fa Già ad agosto Diciamo Ottobre sarà aperto Poi degli intoppi Burocratici Non hanno consentito Questa apertura Però si sta ancora lavorando Affinché l'asta La domenica Possa essere aperta Quindi non andate a visitarlo In questo periodo Come fate in molti Perché tanta gente Va la domenica pomeriggio E trova chiuso Mi dispiace E' anche un po' causa nostra Perché abbiamo lanciato il messaggio Però non ci andate la domenica Vi diremo noi Appena sarà aperto Nella giornata festiva Così potrete passare Una bella domenica di festa Nella zona di Cavalermaggiore E all'asta del mobile A visitare questa grande esposizione Ivan vai Usiamo l'asta del mobile E veniamo a questo banco Che è stato allestito appositamente Per mostrare Alcuni dei prodotti locali Prodotti che vengono proprio Fatti e prodotti in loco Mai prodotto locale Più prodotto E più locale di questo Allora qui alla mia destra C'è una signora Che si chiama? Fracchia Elda Elda, buongiorno Lei fa le bambole di pezze Le faccio le pezze per la passione E anche il passatempo Per passione e passatempo Ma questo è un ricordo Di infanzia, no? Sì, è sempre piaciuto Lavorare, cucire Fare tante cosette Perché forse i bambini Non lo sanno Ma una volta I giocattoli erano questi C'è la bambola La barbie La bambolina Tutta vestita in un certo modo Non c'era Bisognava ingegnarsi Le mamme Le nonne Si mettevano E con poche cose Con pochi stracci Riempiti Tante volte di lana È vero? Ecco Con poco costo Riuscivano a fare queste belle cose Le disegna anche lei? Disegno tutte Sì, sì, sì Faccio tutto Poi le dà le nipotine? Sì, ce ne hanno C'è una Una nipote E tre nipoti Ma questi nipotini Cioè giocano anche con le bambole Che fa la nonna o no? Come, come E come, come Poi fa anche dei bellissimi fiori Che sono un addobbo Un ornamento La signora? La signora che le fa l'uncinetto Sta vicino a me Sta vicino a lei Quindi siete due vicine di casa Poi vi scambiate i regali Una dai fiori all'altra E l'altra Ricambia con le bamboline Eh, Piercarla Invece il suo compito È questo mi pare Sì Le fa una lavorazione particolarissima È particolare perché è fatta con la farina Il sale e l'acqua E quindi è fatta con la pasta di sale Com'è nata l'idea? Com'è nata la passione? Ma veramente è un'idea non mia Ma è un'antichissima idea Dei paesi nordici Della Germania Sì Ed era una tradizione vecchissima Loro usavano questi ingredienti poveri Per fare degli addobbi Per l'albero di Natale E da questo Lavorando si è sviluppata appunto Altre idee Per cui insomma Vengono fuori delle cose abbastanza Sono cose che stimolano molto la fantasia Signora Miles Qua invece che cosa abbiamo? Ci dia un po' Allora Qui abbiamo Intanto le composizioni di fiori Io mi diletto a raccogliere E fare composizioni di fiori siccati I fiori di langa Precisiamo E sono qui E anche quelli che abbiamo davanti Quelli sono messi un po' così Però vengono fuori poi dei bei cesti Ma non abbiamo avuto tempo a preparare Qui alla mia sinistra invece C'è la signora Rocca Raucci Maria Che ricama Fa ancora i ricami Ora qui ha portato delle cose Che sono nascoste Che sono poi tra l'altro Iniziali Ecco Che sono più preziose Di quelle che lei ha Secondo me è evidenziato Perché questo è un ricamo più semplice Questo è a intaglio Quindi è molto prezioso Queste sono le vecchie doti di un tempo Le vecchie doti di un tempo I ricami delle nonne Vuoi dire qualcosa tu Maria? Ma non so cosa dire A me mi piace Questa è la camicia da notte Che ho portato Antifardel Antifardel sarebbe il corredo Antifardel Allora lei dice Questa signora è una cosa che va segnalata Che va detta I nostri paesi sono stati arricchiti Dalla presenza di molte ragazze meridionali Che hanno sposato ragazzi del logo Perché questi ragazzi Molti di loro non trovavano più E qua parliamo dei bacialè E qui parliamo Non ci sono più i bacialè Perché si arrangiano da soli Certo Però dobbiamo dire grazie anche a queste ragazze Se la popolazione è di nuovo Certamente Aumentanti se molti hanno trovato Forse una famiglia Un tempo i bacialè facevano questo lavoro Certamente I primi matrimoni così E come le definisce Nuto Revelli Uno scrittore che si è interessato molto di queste cose Delle calabrotte Lui le definiva con affetto Si risalgono proprio all'intervento dei bacialè Poi si sono aggiustati Sì anche perché poi c'era una corrispondenza Una corrispondenza E quindi effettivamente Brava Complimenti Però l'accento non l'ha ancora preso Quello che abbiamo inteso Dica un po' Due pur un bagnandoli Eh non sono capace E provi come riesci dai Ah non lo so Come riesci Due pur un bagnandoli Perfetto Precisa Bravissima Castagne Abbiamo detto Castagne Prodotto locale Anche i tartufi Certo perché questa è zona di tartufi anche Abbiamo i ricercatori dietro di noi E quindi sono delle cose fantastiche Beh stiamo vivendo il momento del tartufo di Alba Però qui insomma ce n'è Eh poco roba ma Si trova solamente come lì Quello che c'è ve lo tenete per voi Oppure lo portate giù ad Alba Lo vendete Lo portate anche in giro Pug pregiate Persino è un peccato però Cioè teniamoci Cioè là ce n'è tanto Ah beh beh C'è giustamente da prendere qualcosa Per esempio un tartufino così Quanto viene? 50-60 mila 50-60 mila È già un bel tartufo però Proprio nella zona? Eh sì Ci dica dov'è dai Eh? Si dica Vicino a Belbo Vicino a Belbo Ah vicino a Belbo Eh vedi 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 la furberia Non si fidi di loro No no Questa mi manda fuori Pezza la neppia mi manda Già di là arriviamo E poi qui eccolo qua Altro prodotto locale Grande produzione di formaggi Mi sembra che questo sia un altro dei momenti importanti Abbiamo rappresentata La signora che fa Questi non la vedo Ma l'azienda Ah c'è il marito L'azienda proprio Agricola di Fracchia Celestino E nella rappresentanza della Mora E adesso sono Marco Pierini Ecco ci sono le immagini intanto della lavorazione di queste tombe fatte in maniera casalinga mi pare Artigianale proprio come una volta Da quanti anni si fanno? Eh da sempre io le facevo già da piccola Già da piccola Sempre continuato Il segreto per una buona toma qual è? Perché noi sentiamo molto parlare dei formaggi murazzano per esempio Noi lo facciamo al naturale proprio solo caglio e sale Venga un po' qui buon latte E latte di che animali sono? Noia e di mucca Mucca però rimangono buonissime Sia di mucca che di pecora no? Sì di mucca e di pecora Noi abbiamo solo le mucche Che differenza c'è con la toma di murazzano che è nella zona poi Ma quello di murazzano è già fatto più industrialmente Noi invece la facciamo proprio artigianalmente Senta qua adesso mentre non ci ascolta Non facciamo scaldare il latte Maestro tieni pronta una musichetta perché ho bisogno di chiederti una cortesia No musichettina al maestro poi andiamo a chiudere con la redazione Musichetta io devo dire una cosa alla signora Tagliamone una C'è mentre non ci vedono però per poi quelli sono invidiosi a casa Guarda quello si mangia il formaggio Maestro tu suona che io ho da fare Hai capito? Vai con la musica Coltello pronti Procuriamo il coltello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravo maestro Bravo maestro Miguelino Grazie a tutti Grazie a tutti Secondo voi Secondo voi l'uomo deriva dalla scimmia come dice Darwin Oppure è un essere creato esclusivamente da Dio come dice la Bibbia Andiamo a sentire che cosa ne pensa la gente tra le bancarelle Secondo lei l'uomo discende dalla scimmia o è stato creato da Dio? Io direi che non discende dalla scimmia No No E da che discende? Da cosa è stato creato? È stato creato da Dio come vedeva hanno fatto la trattaccia così Dalla scimmia senz'altro Perché? Ma per questo non lo so Non mi ricordo più tanto io Che cosa con ciò ma? Proprio mi che sono il più brutto che è No ma non ha importanza A lei non è che assomigli tanto alla scimmia Ma magari un po' più bella Ma magari un po' più bella c'è meno Da come si comportano gli uomini penso dalla scimmia Perché? Perché sono un po' così Sono acrobati che vanno sulle piante S'arrampicano Sono animali No Se il pesca sia la scimmia Perché? La scimmia Perché proprio pensa alla scimmia? Perché Dio non so se ha creato qualcosa o no È stato creato da Dio Sicura? Sicura Sicurissimo L'uomo discende dalla scimmia Oppure è stato creato da Dio? È stato creato da Dio Sicura? Sicurissima Allora la scimmia che serve? È una bestia come tante Dalla scimmia? Mi è preso dalla scimmia Non sono sicuro ma Lei pensa? Perché pensa così? Un'idea mia Bene abbiamo sentito allora Ci sono dei contrasti Io pensavo che quasi tutti avrebbero detto Dalla scimmia Invece abbiamo sentito Adamo e Deva Abbiamo sentito È stato creato da Dio Qualcuno Polemicamente Ha detto dalla scimmia Visto come si comporta dalla scimmia Quale considerazione si può trarre? Rosalba Da quello che c'è scritto Sulla stampa di oggi E da quello che abbiamo sentito dalle interviste Ma principalmente secondo me È bene che comunque Non ci sia solo una teoria di pensiero E finalmente comunque la scienza Si sia avvicinata anche alla religione Perché bene o male Il nostro è un paese comunque religioso E viceversa anche diciamo E comunque gli scienziati Per carità Diciamo che forse in fondo La scimmia qualcuno deve averla creata Prima o poi Per cui possiamo dire che magari Dio Ci ha messo anche il suo zampino per questa cosa Certamente Cioè poi la polemica era sul discorso ovviamente dell'anima No? Cioè quindi della grossa differenza Non puramente fisica E questo è una cosa molto difficile Soprattutto a trattarne Forse comunque molto 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 lunga Perché insomma In quattro parole è difficile spiegarla Almeno per me è difficile Comunque l'evoluzionismo Non contrasta assolutamente con la fede È notevole che questa teoria Si sia imposta in seguito a una serie di scoperte Fatte in molte discipline Una prima apertura verso Darwin Era avvenuta nel 59 Con un'enciclica di Papa Pacelli C'era un primo spiraglio Però diciamo che il fatto che la Chiesa Prenda questa posizione attraverso Papa Voitiva Mi sembra decisamente una grande apertura Cosa dici Beppe? Io dico così Dalla scimmia o creato da Dio? Io non credo dalla scimmia Creato da Dio? Io per me sì Vedi, per te Rosalba? Penso comunque dalla scimmia Penso comunque dalla scimmia Gabriella per te? Da Dio Da Dio Ecco abbiamo sentito un pochino di opinioni Ognuno poi ovviamente la pensi come meglio crede Non possiamo approfondire più di tanto Sono argomenti estremamente impegnativi, importanti Diamo un tocchettino Scagliamo la pietra E nascondiamo la mano Prima di sentire i prezzi Sentiamo la sinfonia E la sinfonia campagnola Poi chiudiamo con la borsa di oggi Cattura d'arrivo Veramente in finale Prezzi di oggi Niela Belbo 2410 Borsa della spesa Vai Gabriella I cachi I cachi vanno a 1500 lire al chilo Prezzo minimo E 2000 lire prezzo massimo L'insalatina valeriana 1000 lire al letto I pomodori 2000 lire al chilo 2008 prezzo massimo Le costine 1500 lire al chilo minimo 2500 lire al chilo Prezzo massimo Buoni prezzi? Buoni? Sì abbastanza Si può comprare Molto bene Ah guardala qua Il prezzo giusto E quello della Mamma mia Questa è la toma che parla Sa signora Io ringrazio tutti gli amici Che ci hanno ospitati qui Ringrazio tutto il paese di Niela Torneremo a trovarvi Speriamo presto Fate tante belle cose Mi raccomando In bocca al lupo Per le vostre iniziative Maestro Siamo pronti per la sigla finale Domani ancora una volta Alba Ancora una volta Tartufo Continuate a seguirci Su Quarta Rete Al mercato con Clivio E noi ci mangiamo la toma Ciao Niela Ciao Niela Ciao Niela Ciao Niela Ciao Niela Ciao Niela Ciao Niela